Purtroppo nel 2014 ci sono ancora tanti i cristiani perseguitati e uccisi in tutto il mondo. Per questo motivo la Lega Nord è che cosa chiede al governo italiano? I cristiani uccisi nei paesi arabi sono aumentati. Noi chiediamo al governo italiano di intervenire. La presentazione della nostra mozione e la discussione che facciamo alla Camera innanzitutto è un mezzo per parlarne e per far finire questo silenzio assordante. Noi diciamo al governo di utilizzare la diplomazia per fare in modo che queste stragi di cristiani nel mondo finiscano. Che ci sia una vera tutela delle donne anche nei paesi islamici perché la sinistra la chiede qua ma spesso si dimentica di quello che succede nei paesi islamici. Chiediamo se non succede questo, se non viene tutelata la libertà di religione e di cristiani nel mondo noi chiediamo al governo di bloccare qualsiasi rapporto istituzionale ed economico con questi paesi incivili.